I will triumph over the Patriots and liberate us all and we will become the sons of liberty! Quando vuoi? Adesso non si può perchè sto aspettando che arrivano quelli del Tg2 No ma due secondi! Facciamo due minuti adesso perchè quando arriva chiudi, chi se ne frega! No no mi sto vestiti, guarda prova a richiamare fra dieci minuti eventualmente! Antò quando c'è l'intervista perchè sta cosa ha visto di Tagliani e... Ma non mi sto vestiti, prova a richiamare fra dieci minuti vediamo! Ma che se stai nudo in casa scusa, non ho capito! Eh allora fatteli i cazzi tu, ah no va, va a culo! Io non ho capito! Ti pare che è ora stia? SNAKE! Are you ok? SNAKE? SNAKE!